Michael Racing, l'associazione sportiva dilettantistica che opera nel mondo delle corse automobilistiche, ha compiuto 30 anni di attività ed ha voluto festeggiare questo traguardo in concomitanza con l'annuale cena dedicata alle operazioni dei piloti e dai sostenitori dell'associazione. 30 anni, 30 anni di carriera non sono pochi. Obiettivamente è la squadra che conta, io la presiedo, ma senza di loro non sarei nessuno e continuo a dirlo che non sono nessuno. Tutti i progetti che sono nati sono nati perché condivisi, condivisi da tantissimi piloti che ci hanno dato una mano sia nei progetti giovani sia nei progetti anche old come abbiamo appena sentito da Ugo Scaping. Quello che ci tengo a dire è che il Michael Racing cerca di essere sempre davanti, sempre davanti con uno spirito competitivo, spirito buono, senza polemizzare, senza polemiche, ma soprattutto con la voglia di far crescere sempre più giovani, primi i nostri figli e poi tutti i resti dei piloti che vengono attorno a noi. Destinazione pilota è un esempio di questo. Allora parliamo del trofeo Michael Racing 2018, sicuramente è andato bene, visto che su sei gare ne ho vinte tre e tre ho fatto il secondo posto, quindi mi sono giudicato il trofeo. Sicuramente ci sono dei giovani talentuosi pronti ad arrivare per il 2019, sarò ben lieto di poter fare da supporter e da testimonia di Michael Racing e quindi penso che il 2019 sarà un anno decisamente importante. Devo ringraziare Michael Racing per l'opportunità che mi ha dato. È partito tutto da Facebook, ho trovato appunto sulla vostra pagina il video che loro avevano proposto, questa destinazione pilota, dove potevi iscriverti e andare a far vedere cosa eri in grado di fare con una macchina. e ho deciso di provare così perché ho detto proviamoci perché insomma sono tanto appassionato e così, e sono andato e alla fine appunto è andata bene, insomma ho avuto un bel risultato e è andata bene così. Progetto futuro? Beh per quest'anno intanto fare le sei gare del trofeo Michael Racing, e poi si vedrà magari qualche rally, vediamo. La stagione è soddisfacente in quanto il confronto è stato fatto con diversi attori validi e quindi l'importanza è avere sempre un attore da confrontarsi valido come pilota. Varia perché altri attori, altre categorie hanno ben figurato nella manifestazione e hanno dato lustro anche a quello che è la competitività, anche per gli old, cioè noi, e anche per i giovani. Il tutto si è ben amalgamato, nello spirito più corsaiolo, che è importante perché lo spirito corsaiolo deve essere un po' frizzante, altrimenti la cosa si riduce a un raduno. La competitività è stata sana, dura, maschia, sana e ha portato a questi risultati. È conviviale, è un ritrovo tra amici, abbiamo tanti giovani, tante nuove presenze questa sera, tanta gente da molto lontano che ha sfidato anche l'indemperie delle nevi, che però sono qui presenti perché volevano essere presenti alla nostra cena, che come tutti gli anni è sempre ben pianificata, ben organizzata, perché vogliamo dare il massimo come Michael Racing, sempre. Ciao bella gente, tutti sorridenti.